Maestre. E' morta a 96 anni Clara Agnelli, figlia di Edoardo e Virginia Burbon del Monte. Clara Agnelli, sorella maggiore di Gianni, è morta all'ospedale dell'Angelo di Maestre, dove era ricoverata da alcune settimane. Si era sposata con il principe Tassilo von Fustenberg, morto a metà degli anni Ottanta. Dalle nozze erano nati tre figli, Ira, Egon e Sebastiano. Si era poi risposata in forma privata con il conte Giovanni Nuvoletti nel dicembre del 1989, nella cappella della villa di famiglia a Marocco di Mogliano Veneto, dove la coppia si era trasferita.